E' troppo morbido. Deve essere morbido. Questo è il punto. No? Signora, le faccio provare questo fisiologi. Si mette nella posizione esatta in cui dormi di solito. No, ma non c'è bisogno. Scusa, girati su un fianco, dai. Mettiti come dormi di solito. A cucchiaino. No, grazie. Sì, veramente. Senti, decidi tu, eh. Questa cosa che io sto insieme a Marina, a te ti imbarazza ancora? Sarà pure normale che uno si stranisce perché il padre si mette con una ragazzina e la madre si mette con una donna. Ma dove lo trovi un uomo che ti porta il caffelletto? Io non ho mai amato una donna prima di te. Non ci ho mai neanche pensato. Sei stata per tutta la vita, la moglie da Sergio, la madre di Bernardo. Basta, goditi un pochino sta libertà che c'hai. Sì, sì, vai, vai. C'è ancora spazio. Quale spazio? Lo sai, non ci vedo. Non vedi, non ci senti. Mi pare da sta Goanna dei miracoli. Ho incontrato una persona. Oh, una donna. Posso sapere da quanto tempo a me racconti per lei. Non puoi stare qui lì. Perché come stai? Come una che le manca un pezzo. Tu ti vergogni? Ancora. Io ho bisogno di capire. Tu sei l'unica persona importante per me. Io con te ho imparato un sacco di cose. Beh, vediamo la puntata e siamo indietro. Vedi, rilascio sta, questo è il condizionatore. Vedi, rilascio sta, questo è il condizionatore.